Siamo particolarmente contenti oggi di ospitare qui in Camera di Commercio a conferenza stampa di presentazione del nuovo volo della Volotea Pisa-Tolosa che si va ad aggiungere a quelli già esistenti sempre in Francia di Nantes e Bordeaux e Palma di Mallorca in Spagna. Questo è particolarmente importante perché è un nuovo vettore, un nuovo volo che porta altri turisti francesi visto che la presenza dei turisti francesi è la terza per importanza per la provincia di Pisa dopo tedeschi e cittadini del Regno Unito. Tra l'altro in occasione di questa apertura e questo volo abbiamo fatto venire un po' di giornalisti francesi per presentare anche il nostro nuovo brand Terre di Pisa che stiamo cercando di spingere, un brand territoriale che promuove il turismo ma non solo, promuove anche tutto il settore dell'agroalimentare e promuove tutto ciò che il territorio pisano può offrire ai turisti. Quindi è stata particolarmente importante la presenza dei media francesi che in occasione di questo volo sono venuti a visitare il territorio, hanno visitato diverse location, Volterra, Vico Pisano, Calci, Pisa ovviamente. Insomma siamo veramente contenti che ci siano sempre più voli dall'aeroporto di Pisa per le destinazioni anche europee che sono poi le destinazioni che fanno venire più cittadini stranieri a visitare il nostro territorio.